Buon pomeriggio, sono il professor Gustincic e dirigo il laboratorio di genomica funzionale delle malattie neurodegenerative e oggi presenterò il lavoro del mio laboratorio e quello del professor Legname. Prima di questo vorrei discutere, condividere con voi le motivazioni che hanno portato la sissa a aprire dei laboratori che studiano le malattie neurodegenerative. Ma innanzitutto partiamo da alcuni numeri che sono importanti. In questo momento esistono 25 milioni di malati con Alzheimer, Parkinson e ALS nel mondo. Come potete immaginare è un numero enorme. L'aspetto più importante però è che mentre se noi guardiamo gli ultimi 4-5 anni la medicina ha fatto delle conquiste incredibili, per esempio per alcuni tumori o anche per l'infezione dell'HIV il numero di pazienti e di malati è sensibilmente diminuito, negli ultimi anni i malati di Alzheimer sono aumentati del 66%. Questo probabilmente perché è una malattia il cui fattore di rischio più importante è l'età. Teniamo presente anche che le malattie neurodegenerative comportano una spesa socio-economica, un costo socio-economico notevole. Solo nel 2012 è stato calcolato che gli Stati Uniti hanno speso 200 billion dollars per spese sanitarie o di assistenza collegata alla demenza. Quindi stiamo parlando di uno dei più grossi problemi soprattutto della società occidentale in questi anni. Teniamo presente che in questo momento non esiste nessun farmaco, nessuna molecola che sia in grado di bloccare o rallentare un processo neurodegenerativo collegato a qualunque di queste malattie. contemporaneamente non esiste neanche un sistema diagnostico che sia in grado di diagnosticare prima della comparsa dei sintomi in maniera corretta queste malattie. Per cui è come se in questo momento la scienza, la medicina non abbia dato la risposta che la società vorrebbe. Allora ci siamo chiesti ma perché sta succedendo questo? Perché nei ultimi due anni sono falliti 300 trials clinici per nuovi farmaci per le malattie neurodegenerative? 300, è un numero incredibile, un numero che ha anche delle conseguenze economiche perché molte industrie farmaceutiche in questo momento si stanno chiedendo se ha senso investire in un business a così alto rischio. e noi pensiamo che la risposta fondamentale a questa domanda sia che noi in realtà non conosciamo ancora i meccanismi molecolari della malattia, non abbiamo ancora compreso le cause della malattia e quindi in realtà abbiamo ancora bisogno di ricerca di base. Poi una volta che è stata fatta una buona, un'ottima ricerca di base potremmo chiederci come applicare questi risultati nella famosa medicina traslazionale. Ma fino a quando noi non comprenderemo i meccanismi molecolari di base, la medicina traslazionale purtroppo, come ci sembra evidente, non potrà essere una medicina di successo. Allora, andiamo nei dettagli. Il mio laboratorio in particolare si occupa di malattia di Parkinson. Di nuovo sappiamo benissimo di cosa significa la malattia di Parkinson, significa avere una difficoltà nel controllo dei movimenti. Stiamo parlando di 200.000 casi in Italia, 4 milioni nel mondo, 10.000 casi nuovi ogni anno. Again, non c'è cura, again, non c'è diagnosi precoce. Esiste un trattamento farmacologico, ma è che come tutti i trattamenti farmacologici nel caso delle malattie neurodegenerative è sintomatico, cioè il trattamento con l'allevo dopo. Ebbene, quali sono le domande che noi riteniamo fondamentali e che ci poniamo nel nostro laboratorio? Essenzialmente due. La prima è che in tutte queste malattie neurodegenerative i sintomi della malattia sono dovuti a quale tipo di parte del cervello, quali tipi di neuroni del cervello degenerano. Nel caso della malattia di Parkinson, come potete vedere anche in questa fotografia, degenerano selettivamente quella zona del cervello che nella figura di sinistra sono di colore rosso scuro, che come vedete invece nella foto del cervello a destra, derivante da una persona che aveva la malattia di Parkinson, non sono più presenti. Ebbene, quelle sono un tipo particolare di cellule che producono una molecola che è chiamata dopamina. E proprio il fatto che queste cellule degenerano e il cervello non è più in grado di produrre questa dopamina, siccome la dopamina è fondamentale nel controllo del movimento, ci ritroviamo che i malati hanno quel particolare tipo di sintomi. Ebbene, noi non sappiamo perché in un certo momento della vita di un individuo queste cellule cominciano a degenerare. Allora ci siamo chiesti cosa rendono speciali, cosa rendono uniche queste cellule dopaminergiche rispetto alle cellule che sono localizzate nella stessa zona, sono vicine ma non producono dopamina. Quali sono le differenze tra queste cellule e le cellule adiacenti? Contemporaneamente ci siamo chiesti anche una seconda domanda. Ebbene, vi invito a guardare questo disegno in cui vedete questa è la descrizione della prospettiva, l'aspettativa di vita per 20 anni dalla diagnosi della malattia di un malato di Parkinson. Ebbene, ci sono vari momenti, i primi anni sono considerati un momento chiamato honeymoon, cioè essenzialmente di luna di miele perché? Perché il trattamento farmacologico sintomatico, cioè l'allievo d'opa, funziona. Poi però abbiamo sempre complicazioni motorie, dei sintomi resistenti, fino a quando cominciamo ad avere un declino cognitivo. Ebbene, il punto cruciale di questa figura però è il tempo zero. Cosa intendiamo per tempo zero? Intendiamo il momento nel quale la persona comincia a star male, va dal medico e gli viene diagnosticata la malattia di Parkinson. E da questo momento per esempio questo malato può essere introdotto dentro un clinical trial per provare nuovi trattamenti farmacologici. Ebbene, il punto cruciale, e questo è vero per tutte le malattie neurogenative, il punto zero non è il punto zero. Perché al punto zero, cioè quando, al tempo zero, cioè quando iniziano a manifestarsi i primi sintomi, sono già morte l'80% di quelle cellule rosse che vedete nel cervello del patente di Parkinson. Quindi la malattia, questo ci dice due cose. Prima, che il cervello è una macchina meravigliosa che riesce a compensare per l'assenza dell'80% di questo tipo di cellule. Non ce lo fa sentire che abbiamo perso quelle cellule. Ma contemporaneamente anche ci dice che la malattia è iniziata 5-10 anni prima e noi non ce ne siamo accorti. E quindi una strategia ideale per nuovi trattamenti farmacologici, per testare nuovi farmaci, sarebbe riuscire ad agire sull'80% di quelle cellule che stanno iniziando a degenerare, non soltanto sulle 20% di malattie. Ebbene, e quindi diventa importante riuscire a identificare la malattia ben 5-10 anni prima che comparino i sintomi. E siccome prima dei sintomi, diciamo, di controllo del movimento si iniziano ad osservare delle alterazioni, per esempio nel controllo del sonno, per esempio la depressione e così via, suggerendo che queste malattie neurodegenerative in realtà sono malattie sistemiche dell'intero corpo, allora abbiamo sviluppato un progetto in cui ci chiediamo se esiste nel sangue la possibilità di identificare, prima della comparsa dei sintomi motori, delle alterazioni che ci permettono di funzionare come un kit diagnostico. Ebbene, facciamo questo tipo di progetti però da un punto di vista molto particolare. Tutti voi sapete che nel 2001 c'è stato uno dei più grandi achievements della scienza, cioè è stato sequenziato il genoma umano. Due progetti, progetto privato e progetto pubblico, sono stati pubblicati su Science & Nature e hanno identificato lo stesso numero di geni, circa 20-21.000 geni. Cioè quindi il genoma umano contiene 21.000 geni che codificano dal pezzo di DNA, viene sintetizzata una molecola che si chiama RNA, che codifica per quello che viene chiamata una molecola proteina. Quindi abbiamo circa 20.000 proteine diverse codificate da 20.000 geni. Ebbene, questo nel 2001. Quello che non tutti sanno è che i due progetti di sequenziamento del genoma umano non sono riusciti a trovare metà dei geni. Cioè essenzialmente hanno trovato soltanto i 20.000 geni che codificavano per proteine, ma nei restanti, nei dieci anni che ci divide da quella scoperta, abbiamo identificato, e il nostro laboratorio ha avuto un ruolo importante in questa scoperta, altri 20.000 geni che non codificano per proteine, ma sono i cosiddetti non-coding RNA genes. Cioè i geni che codificano soltanto degli RNA che non vengono tradotti. Ebbene, è interessante che il Human Genome Project non li ha trovati e ha perso e non ha identificato metà dei geni. Ebbene, quello che i nostri laboratori, sia il laboratorio mio, sia il laboratorio del professor Deniame, cerca di fare, cerca di comprendere come questi 20.000 geni che non codificano per proteine, che sono stati completamente ignorati dalla scienza sulle malattie neurodegenerative, hanno in realtà sé e quale sia il loro ruolo nel processo di neurodegenerazione. E sia nel studiare la suscettibilità delle particolari cellule dopaminergiche, sia nel identificare un chit diagnostico nel sangue che ci possa predire l'insorgenza della malattia. E da questo punto di vista voglio solo citarvi due risultati del mio laboratorio. Una pubblicazione che è uscita su Nature nel ottobre dell'anno scorso nel quale abbiamo identificato una nuova famiglia funzionale di questi non-coding RNA e di questi RNA non codificanti. Si sapeva che gli RNA codificanti potevano essere solo inibitori del controllo dell'espressione genica. Noi abbiamo trovato una nuova classe di RNA RNA che invece è attivatoria. E' interessante perché questi RNA attivatori hanno anche un'applicazione industriale, cioè possono essere manipolati, modificati ed utilizzati per aumentare sia il processo industriale di produzione di proteine, per esempio di farmaci proteici, quali per esempio gli anticorpi ricombinanti, in questo momento sono i farmaci più promettenti come farmaci antitumorali, sia come gene therapy, come terapia genica, in quanto vorremmo per esempio aumentare la quantità di proteina in vivo in un paziente di quando di questa proteina ce n'è poca, per esempio nel caso della talassemia. E su questa abbiamo fondato una start-up che si chiama Transign Technology. Contemporaneamente invece guardando il sangue nei malati di Parkinson abbiamo trovato un insieme di geni che sono associati con la malattia e anche su questo insieme di geni, quindi sulla produzione di un kit diagnostico per la malattia di Parkinson, nel 2011 abbiamo vinto il primo premio nazionale sull'innovazione, su 2500 partecipanti e anche lì abbiamo una start-up che si chiama Parscreen per screenare i malati e diagnosticare o meno la malattia di Parkinson. Questo è il mio laboratorio che è composto da 9 assenisti di ricerca, 9 studenti di PhD, una segretaria e come potete vedere chiaramente fare questo tipo di ricerca è molto costoso e abbiamo soprattutto moltissimi finanziamenti da parte della comunità europea, in particolare io coordino un progetto di 9 laboratori europei che si chiama Dopamine. Per quanto riguarda invece il laboratorio di biologia dei prioni che è diretto dal professor Legname, questo è composto da 22 membri, 10 assenisti di ricerca e 11 studenti di PhD e anche il professor Legname come vedete ha una serie di finanziamenti sia nazionali che internazionali e soprattutto europei. La biologia dei prioni e le malattie prioni che sono una malattia estremamente interessante, innanzitutto sono malattie fatali, purtroppo l'infezione da prioni porta alla morte del paziente e tutti voi conoscete che questo è stato un grosso emergenza sanitaria alla fine degli anni 80 quando si è visto che i prioni potevano trasferirsi dalle mucche e provocare neurodegenerazione in pazienti, infatti sono stati i casi della mucca pazza. Il professor Legname è stato assistente, prima di venire all'assistente, è stato assistente del professor Prusiner che è lo scienziato che ha introdotto il concetto di prioni e che ha vinto per questo il premio Nobel e il professor Legname è stato suo assistente per 10 anni all'University California San Francisco. Cosa è la malattia di prioni e cosa fa di particolare la sissa rispetto agli altri istituti nello studiare questo tipo di malattia? Ma grazie anche alle ipotesi e alle teorie del professor Prusiner è stato visto che la malattia di prioni è dovuto a un cambiamento conformazionale di una proteina. C'è una proteina che normalmente è presente e codificata dal nostro DNA ed è presente nel nostro cervello. Per motivi che noi non sappiamo, questa proteina cambia conformazione e questa nuova conformazione di questa proteina provoca neurodegenerazione e alla fine morte del paziente. E come vedete è chiamata malattia spongiforme in quanto essenzialmente crea dei grandi vacuoli all'interno dei neuroni delle cellule delle persone compiute. Again, di nuovamente non c'è diagnosi precoce, non c'è terapia, ma il fatto di essere la sissa aiuta a affrontare questo problema con un approccio multidisciplinare. Cioè il fatto che noi abbiamo dei fisici che ci fanno dei modelli o dei calcoli su quali possono essere le strutture delle proteine ci aiuta a capire questo cambiamento conformazionale tra questa proteina e una conformazione normale e una conformazione neuropatologica e ci permette anche di disegnare possibilmente dei farmaci che possono bloccare questo tipo di conformazione e quindi sperabilmente alla fine il processo di neurodegenerazione. Quindi penso di avere tutti. Grazie.